Ha tentato da Mauri! Palla sul fondo, la prima palla gola a Sant'Elia dopo due minuti e mezzo è della Lazio. Qui va dentro Rocchi, Rocchi, Rocchi! Vantaggio Lazio! Dopo tre minuti e mezzo il gol di Tommaso Rocchi! Sì, sì, Granbella ha giocato da tutta la sotera con un frazeggio stretto con Mauri e l'altro attaccante. E Rocchi si è inserito molto bene, questa palla in verticale di Mauri sarà perfetta, grande giocata e bel gol, veramente. Potrebbe calciare Lazzari sul tocco di Conti, eccolo il sinistro di Lazzari! La splendida risposta di Muslera in calcio d'angolo. Marchetti in uscita, Rocchi prova il pallonetto e sfiora in 2-0 Tommaso Rocchi. Flocchari, insiste Flocchari, Flocchari da solo, Flocchari! 2-0! Che giocata! Che bellezza, splendido gol di Flocchari che raddoppia e porta la Lazio sul 2-0! Che giocata, sia De Sena che Agostini avevano paura di fare ricore, quindi l'hanno quasi lasciato andare, non volendo, logicamente, ma Flocchari si è accreditato in questa azione che sarà bellissima. Rocchi anticipato dal colpo di testa di Canini. Ancora Mauri, diagonale! Il Lazio che sfiora il 3-0. Ledesma, Marchetti! In calcio d'angolo, sarebbe stato il 3-0 di Ledesma. Piacostini mette fuori Rocchi, Rocchi il diagonale che termina sul fondo. Flocchari, insiste Flocchari, Flocchari! Marchetti per la respinta, c'è Mauri, Mauri tocca lì dietro, Licksteiner, ancora Marchetti evita il 3-0. Di nuovo Licksteiner e la parada di Marchetti. Flocchari, taglio di gioco su Mauri, ancora Mauri! Tiro sul fondo, un brivido per la porta di Marchetti sul diagonale di Stefano Mauri. Un'occhiata al cronometro e finisce qui!